La data di fondazione di Roma fu stabilita definitivamente solo nel I secolo a.C. Questa data, il 753 a.C., fu suggerita dall'erudito Varrone, calcolando la successione dei sette re e la durata media di 35 anni per ciascuna generazione. Precedentemente, lo storico greco Timeo aveva proposto la data 814, cioè lo stesso anno della fondazione di Cartagine. La tradizione ci racconta che Romolo fondò Roma sul Palatino. Tuttavia, l'archeologia ha mostrato che gli insediamenti più antichi si trovano sul Campidoglio e risalgono all'inizio della media età del bronzo, cioè XVII-XVI secolo a.C. L'archeologo Mario Torelli sostiene che non c'è continuità fra questo insediamento dell'età del bronzo e i successivi insediamenti dell'età del ferro, ed è come se ci fosse una cesura. Non a tutti i torti, perché finora abbiamo solo resti del bronzo medio e non è stato trovato molto del bronzo finale. Questo problema comunque della continuità rimane aperto. D'altronde, la storia e l'evoluzione procedono a salti e ci sono sempre cesure e cambiamenti. Il Campidoglio venne occupato per primo perché era una rocca abbastanza inespugnabile, poiché molto ripida, e poi perché si affacciava su un ottimo approdo e guado del Tevere, cioè l'isola Tiberina. Soprattutto c'è una curva del fiume che in età protostorica doveva essere addirittura più vicina, quindi lambiva quasi le pendici del colle. Inoltre, il Campidoglio era unito al Quirinale tramite una sella, e dunque era l'estrema propaggine di un sistema collinare che arrivava fino al Tevere e che dava continuità insediativa con l'entroterra. Fino al IX secolo l'abitato si concentra sul Campidoglio. Poi, dall'inizio del IX secolo, viene occupato anche il Palatino. Questa estensione, nel giro di poco tempo, coinvolge anche la Valle del Foro, e infatti la Necropoli che si trova sotto il Tempio di Antonino e Faustina, di cui parleremo in seguito, proprio dalla prima metà del IX secolo viene abbandonata e si sposta sull'Esquilino. Dunque, nel IX secolo l'abitato di Roma aveva dimensioni notevoli. Nel corso dell'VIII secolo, il Palatino divenne il colle più importante, intorno al quale si aggregarono alcuni insediamenti, mentre gli altri mantenevano la loro condizione di paggi, cioè di piccoli villaggi, ai margini della comunità più grande organizzata. Questo fenomeno di aggregazione intorno a un nucleo più importante è detto sinicismo. L'archeologo Andrea Carandini ha individuato alle pendici settentrionali del Palatino le cosiddette Mura di Romolo, cioè una fortificazione in pietre e legno della metà dell'VIII secolo, composte da un accesso e un fossato. La supremazia del Palatino è documentata da cerimonie religiose ricordate da un calendario di età monarchica, come quella del Septimontium, che partiva proprio dal Palatino, dove si svolgeva un sacrificio, oppure l'Upercalia, nei quali i celebranti correvano intorno al Palatino. In ogni caso, la tradizione che vede Romolo il fondatore di una città stata organizzata non è confermata da tutti gli studiosi, la maggior parte dei quali crede che la città romulea sia un'anticipazione letteraria di un'organizzazione che si ebbe solo in seguito. Non è dunque dimostrabile se Romolo sia esistito davvero, o se si chiamasse davvero così, magari aveva un altro nome, ma dalla tradizione è considerato il fondatore e un re guerriero e legislatore, che mise in piedi una città-stato con le sue istituzioni. La fine di Romolo ha due diverse versioni. Nella prima scomparve e divenne Quirino, il dio protettore della città e dei romani, che ne veneravano la tomba nel foro. Nella seconda versione, più tarda, Romolo fu ucciso e tagliato a pezzi dai senatori, che nascosero così il loro operato. Antropologicamente, questa azione è considerata sbranamento rituale di un sovrano ucciso che segna il passaggio della sua forza al successore. Il motivo di questa seconda versione va ricercata nell'avversione per i poteri personali sviluppatasi in età tardore pubblicana. Romolo divenne il simbolo del governo monarchico inteso come tirannide, ed era quindi associato da una parte del senato a Cesare, accusato di volersi fare re. Dopo Romolo, la tradizione attesta altri re, che per i loro nomi, di origine sabine ed etrusca, dovrebbero avere un minimo di attendibilità storica. Questi sono Tarquini, che fondò il porto di Ostia e costruì il primo ponte in legno sul Tevere, il ponte Sublicio, protegendone la testata sulla riva destra con l'occupazione del Gianicolo. Poi Tarquini Oprisco, 616-579, che segna l'inizio di una fase di dominazione etrusca. Servio Tullio, 578-534, e Tarquini il Superbo, 534-509. Si suole parlare della grande Roma dei Tarquini, poiché fu un periodo florido, di ricchezza e potenza, in cui vennero costruiti numerosi santuari, primo fra tutti quello di Giove Capitolino, una grandiosa cerchia di mura, cioè le mura serviane, e furono bonificate numerose zone paludose, come la Valle del Foro, che fu così pavimentata e resabitabile grazie alla cloaca maxima, che è un grande condotto fognario. Un altro canale drenò la Valle Murcia, dove sempre ad opera dei Tarquini sarebbe stato edificato il primo edificio per gli spettacoli, il Circo Massimo. Anche se, come abbiamo ricordato, secondo la tradizione Romolo aveva già adibito questo spazio per gli spettacoli, Probabilmente però non si pensava ad una vera e propria installazione stabile, era più una cosa momentanea, che si usava a seconda se si erano organizzati dei giochi oppure no. Un'altra zona soggetta di impaludamenti, a causa delle inondazioni del Tevere e di accumuli d'acqua proveniente dal sistema collinare, era il Campo Marzio, dove addirittura esistevano dei culti ctoni, cioè sotterranei, perché la presenza di acque sulfure generava evaporazioni che facevano appunto pensare a divinità sotterranee. Questo periodo di dominazione etrusca coincide anche con la massima espansione degli etruschi nel Lazio e nella Campania. Per gli archeologi sono molto importanti le fonti scritte, quindi oltre al già citato Livio, anche tanti altri scrittori di storia, come Tacito, nato verso il 55 d.C. e morto dopo il 113, che tra le altre cose ha scritto gli Annales, che raccontano la storia di Roma dal 14 al 68 d.C., e cioè il periodo dell'età Giulio-Claudia. Questo brano degli Annales che propongo è importantissimo per gli archeologi, perché fornisce informazioni sui quattro vertici del pomerio di Romolo. Il toro che menziona Tacito era considerato il simbolo dell'aratro che era servito a delimitare il pomerio, però potrebbe essere legato anche al fatto che al Foro Boario c'era il mercato del bestiame. Poi ci dice una cosa importantissima, cioè che il pomerio venne fatto in modo tale che si includesse l'ara di Ercole. Essa quindi è concepita da Tacito come preesistente alla città. Il culto è sentito come antichissimo. Il pomerio non solo l'ara chiuse, ma l'ara stessa divenne uno dei vertici del pomerio. Poi Tacito ci dice che il pomerio era segnato da cippi a intervalli regolari. Noi conosciamo molti cippi pomeriali degli imperatori, come Claudio e Vespasiano, e quindi molti allargamenti del pomerio sono conosciuti solo dal punto di vista archeologico, appunto tramite i cippi. L'ara di Conso, le Curie Veteres e il Tempietto dei Lari sono gli altri tre vertici. Un'altra cosa importante che ci dice Tacito è che alla sua epoca si riconoscevano e vedevano ancora i cippi di Claudio, che regna dal 1941 al 1954, mentre invece Tacito nasce solo nel 1955. Poi ci dice che questi cippi di Claudio erano attestati nei documenti, quindi possiamo immaginarli conservati nel tabularium, che era l'archivio di statua alle pendici del Campidoglio di cui parleremo. e probabilmente Tacito stesso li ha consultati.